Una voce e una chitarra I pezzi che ho scelto per questa edizione di Bootstock sono primariamente di derivazione del folk inglese. Apro con una ballata che è stata scritta tre anni fa da un cantatore molto giovane, si chiama Paolo Mutini, è scozzese. È una delle tracce più belle secondo me di questo disco Sunnyside Art che è fatto nel 2010. Si chiama Tricks of the Trade, i trucchi del mestiere. Apro con una ballata che è stata scritta tre anni fa da un cantatore. Oh, I'm hoping and I'm wishing that this bird won't fly away. We can see life hand in hand, the green, the blue, the rock, the sand. In our time and in our land, we'll savor every day. Oh, how her glory may fade, fade well, at least we've heard some things along the way. Oh, how her glory may fade, fade well, at least we've heard some things along the way. Oh, how her glory may fade, fade well, at least we've heard some things along the way. Oh, how her glory may fade, fade well, at least we've heard some things along the way. For a strong last and low to keep us alive. E' stato l'amore o la riconoscenza a guarire la condizione di quest'uomo? Mi auguro che questo non vuole via e possiamo vedere la vita a mano nella mano, il verde, il blu, la roccia e la sabbia. E nel nostro tempo e nella nostra terra assaporeremo ogni giorno. E sì, la nostra gloria potrebbe svanire, svanire, ma almeno avremo imparato qualcosa lungo il cammino. E mentre il tempo andrà inevitabilmente avanti, almeno avremo quattro solide gambe su cui reggerci, per mantenerci vivi. Grazie. Grazie. Il secondo pezzo è scelto, è dedicato a Steve. È una storia vera, è una storia vera che racconta, cioè racconta scusate, è una storia vera, è dedicata a Lord Franklin, che è un esploratore di due secoli fa. è il primo che ha tentato a scoprire il passaggio nord-ovest intorno al circolo polare artico. Purtroppo la sua spedizione non ha avuto fortuna, sono morti tutti, erano in 126 marinai. E seppure la moglie abbia finanziato la ricerca, all'epoca, in Inghilterra, non erano mai stati ritrovati, proprio per una questione di problematicità, di ghiacci, così. Sono stati ritrovati, penso di recenti, infatti su internet si trovano proprio le foto di questi marinai mummificati, vicino alle isole di Buffin, Buffin Bay. La versione scelta è stata questo pezzo, diciamo Lord Franklin, è stato fatto da moltissimi gruppi. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la chitarra in spia. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. La mia richiama un po' la versione di Sinead O'Connor. Grazie, troppo buoni. Mirko, io sento sempre poco la chitarra. C'è la voce che mi copre la chitarra, non la sento. Però tieni presente che adesso è pennata, è strumming questa. Allora, passiamo a un'altra storia vera. È dedicata ai Diggers. È una storia del 1649, che si svolge durante la rivoluzione inglese. Diggers in inglese significa zappatori, scavatori, ed è il nome con cui sono conosciuti alcuni gruppi che al tempo della rivoluzione inglese si unirono per lavorare in comune la terra. Secondo principi comunitari, c'è uno certo di primi comuni. Ovviamente all'epoca sono stati sterminati. Questa canzone qua racconta proprio di questi episodi, perché le comunità che sorsero all'epoca sono svariate. Quella di cui racconta questa canzone è quella di... è una comunità che sorgeva presso la St. George Hill, nel Surrey, vicino a una chiesa. È una canzone, questa che è stata scritta da Leon Russellson, che è abbastanza sconosciuto. Il pezzo è stato reso famoso da un cantautore irlandese, Billy Bragg, e uno scozzese, Dick Gaugan, che per i cultori di musica folk, soprattutto Dick Gaugan, sono dei pilastri, come canzoni di protesta e quant'altro. Il mondo è diventato, è una canzone di titolo. Il mondo è diventato, è una canzone di titolo. Il mondo è diventato, perché... Grazie per la visione 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 Grazie Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti